Stava tagliando l'erba con la fresa di un trattore ridosso di un marciapiede ed ha rotto un tubo di media pressione del metano. È accaduto in via Noblesville a Cittadella. Interdetta la zona, i vigili del fuoco hanno intercettato e chiuso a monte la rete della tubazione per poi metterla in sicurezza. Intervento terminato verso le 14. In mattinata alle 10.15 operazione di messa in sicurezza di un serbatoio di GPL interrato in via Montegrappa-Loreggia nella frazione di Loreggiola. Scoperta la perdita che riguardava un manometro, i vigili del fuoco hanno prima messo in sicurezza l'area e poi ripristinato il tutto.